Ciao a tutti, nel video di oggi vedremo come creare delle sagome utilizzando la rotazione di alcuni profili. Bisogna partire anche in questo caso da uno sketch, quindi creiamo un nuovo sketch sul piano XY, con il tasto L attivo il disegno della polilinea e traccio un primo profilo a piacere. Notate che ho tenuto appositamente un lato molto lungo, quello verticale, che mi servirà come asse di rotazione. Adesso disegno una sagoma particolare. Ok, come detto ho chiuso il percorso, ora faccio stop sketch ed ecco qua il mio profilo. Ora per creare una forma tridimensionale di rotazione vado ad aprire nel menu create la funzione revolve. Questa, vedete qua di fianco, mi chiede un profilo che seleziono con un click, poi vuole un asse di rotazione e scegliamo uno dei suoi lati ed ecco che immediatamente viene creata una forma tridimensionale generata dalla rotazione del profilo. C'è una funzione di modellazione molto potente e molto utilizzata. Qui usando tre parametri potete scegliere un angolo a piacere se non volete fare per forza 360, quindi full è l'angolo completo 360, potete far proseguire la rotazione fino a chi incontra un oggetto che specificate e se date invece un angolo potete creare una rotazione sui due lati che può anche essere differente nelle due direzioni oppure addirittura simmetrica. È possibile creare delle forme anche trascinando una sezione lungo un percorso con una funzione sweep. Creiamo un nuovo sketch e prendiamo uno dei piani verticali, questa volta disegniamo anche un semplice rettangolo benissimo, faccio stop sketch e abbiamo creato il nostro percorso, scusate, abbiamo creato così la sezione che trascineremo lungo il percorso. Ora dobbiamo creare il percorso di trascinamento, anche qua creo un nuovo sketch, quindi un sketch, scelgo il piano orizzontale, cambio la prospettiva, visualizzazione, il nuovo sketch, creo un percorso, premendo il tasto L, prendo il centro della sagoma che ho tracciato e disegno una linea in questo modo. Premo invio per terminare, stop sketch. Ora come vedete abbiamo il profilo e un percorso lungo cui trascinarlo. Vado a prendere il menu create, funzione sweep, seleziono il profilo e il percorso lungo cui verrà trascinato ed ecco che si genera subito una forma tridimensionale dovuta dal trascinamento come se fosse un'estrusione lungo un percorso non lineare. Anche qua potete cambiare a piacere tutti i vari parametri e provate a sperimentare più o meno le funzioni sono abbastanza intuitive. Ora proviamo un'altra funzione utilissima. Immaginate disegnare un... avete una forma tridimensionale, disegno semplicemente un cubo, poi disegniamo un cilindro, lo metto in piedi questa volta, lo facciamo così, lo allungo da questa parte, faccio ok. Adesso lo ruoteremo, seleziono qui di lato, faccio tasto M per modificare l'orientamento, lo ruotiamo e poi lo spostiamo lateralmente, mettiamolo qua, spostiamolo, lo metto un po' più allineato, perfetto, adesso va bene. Ora, un'altra funzione molto potente è Loft che crea un raccordo, che è un raccordo tra due facce, quindi seleziono, dopo averla attivata nel menu Create, servono due facce, due profili. Il primo è la faccia del nostro box e l'altra faccia che andrò a prendere è la base del cilindro. Vedete cosa è successo? Il programma ha creato un raccordo, vediamo ok, creato un raccordo automatico tra le due parti, cioè da superficie del profilo rettangolare a quello circolare. Questo è utilissimo per creare delle forme molto organiche, molto smussate. Tra le varie funzioni che trovate, poi qui avete altre cose abbastanza folcloristiche che si usano raramente perché creano delle costole, dei rinforzi tipo sulle tettorie oppure delle reticoli interni di rinforzo.